One and live, quindi Enzo ma quando un giorno io ti chiamerò e ti dirò guarda ho parlato con Fatboy Slim qua a Brighton e ha deciso di produrre un nuovo disco perché trova che io abbia un talento musicale straordinario, tu a quel punto mi sosterrai in un qualche modo, dirai Monti ma io l'ho sempre visto in te un grande talento musicale, o dirai Monti no metti la testa un po', torna a parlare di marketing vai. Ma sai oramai si può fare come detto, chiunque può essere produttore di se stesso, produttore di artisti, l'importante è la qualità artistica e la qualità del prodotto perché i nostri consumatori come sai sono molto esigenti, oramai non c'è più quel filtro che c'era una volta, è tutto in diretta come siamo adesso noi, è così, non c'è la promozione che trasforma un successo magari non qualitativamente alto in un grandissimo successo, questo sono i fan che lo decidono. Pensa quanto è cambiato il mondo, ma adesso stavo pensando a quando ci siamo sentiti noi la prima volta, non ricordo che anno fosse, io facevo una roba che si chiamava Popolo della Rete, te lo ricordi? C'era un forum di discussione pre-blog dove si parlava dei vari argomenti e tu avevi accettato di dialogare con tutti gli utenti che tendenzialmente avevano toni diciamo accesi nei confronti delle case discografiche e invece uscivano delle conversazioni interessanti, ecco, e non c'era l'idea di potersi mettere a conversare online e si vedevano due parti contraposte, no? Allora c'è la musica, il business della musica da un lato e gli artisti da un lato e quindi è interessante, ma era un'altra epoca, proprio un'altra epoca, adesso non mi ricordo che anno fosse ma era tutto diverso. Beh, era proprio all'inizio anche della trasformazione digitale, se tu pensi come è cambiato questo mercato da quando è nato iTunes ad oggi, quando iTunes già in qualche maniera è un vecchio prodotto, quasi un vecchio negozio di musica, no? Se lo guardiamo da un'immagine attuale nel mondo dello streaming, nel mondo della dematerializzazione totale, il fatto che siamo addirittura adesso TikTok che sta diventando il canale promozionale prevalente per molti artisti, cioè una trasformazione continua. Parlando anche dei ragazzi, pensa a quanti oggi ci iscrivano, ecco, questa è una cosa interessante, sembrava le case discografiche fosse destinate all'estinzione come tutti gli intermediari, oggi invece proprio quei ragazzi, tantissimi ci iscrivono per entrare a lavorare in un'etichetta musicale, in una case discografica perché chiaramente sono entusiasti questa cosa dei sociali, big data, lavorare con gli artisti, creare, featuring, tutto quello che oggi coinvolge questo meraviglioso mondo della musica con quello delle tecnologie, è incredibile come questa cosa si sia unita, no? Sembrava Enzo, anni fa, quando c'era tutto il tema di Napster, che la musica fosse destinata a essere spazzata via, no? C'era l'idea che a quel punto era tutto gratis, non sarebbe, cioè, fine della storia, musica free e via. E pensare come si è evoluto il mondo della musica, partendo appunto dall'idea che tu puoi pagare un abbonamento a Spotify per ascoltare la musica e in quegli anni sembrava impossibile, mi diceva, no, la gente non paga, è gratis, la scarico gratis, illegalmente, perché dovrei pagare, no? E pensare all'evoluzione che c'è stata è incredibile per me, cioè la musica ha aperto, ha fatto da apripista rispetto a un sacco di altri settori che poi sono arrivati dopo. Ma sì, se pensiamo solo anche al tema della pirateria, oggi noi abbiamo un dato della pirateria in continuo calo, no? Quindi la risposta quindi tecnologica da un lato, i modelli di business, anche perché se tu alla fine guardi su tutto quello che c'è, l'offerta disponibile, oggi andiamo dal vinile esclusivo in un cofanetto che costa 500 euro, alla ad support, cioè all'abbonamento a una piattaforma pagata dalla pubblicità, quindi come una radio, oppure appunto alla partecipazione anche dei fan, no? Pensiamo a tutto il mondo dello user generated content che comunque diventa anche parte del nostro business, poi alla fine la monetizzazione le fanno le case discografiche anche su dei prodotti di successo. Tutti voi avete visto, non so, il caso di Gerusalemme con quel sottotenente di vascello italiano che fa una performance, poi dopo è stata pure punita, ha fatto una performance musicale in caserma. Ecco, tutta quell'attività lì e oggi user generated contribuisce a generare anche dei ricavi all'interno di questo mondo, quindi è un mondo trasformato completamente. Enzo, allora aiutaci con una fotografia iniziale, cioè Fast Tutorial Italia da YouTube, che dice come va l'andazzo sempre più spostati sull'online, i negozi fisici sono destinati a scomparire, sono le classiche dubbi, domande che ci sono. Aiutaci a avere una fotografia ad oggi della musica, cioè dov'è che si consuma, quali sono i pesi online, offline? Chiaramente il digitale è dominante in tutti i mercati, con più o meno percentuali da noi, guarda ti posso dire che il salto epocale c'è stato proprio grazie al lockdown, noi al, diciamo, lo streaming, che è prevalente perché è l'80% del mercato anche in Italia, a dicembre 2019 era il 67%, rappresentava il 67%, a giugno era l'80%, a fine dell'anno sarà probabilmente l'85%, quindi hai un'idea di che salto epocale c'è stato anche in termini di abbonamenti. Non è stato solo un fenomeno che ha riguardato in generale il digitale, noi abbiamo visto tutte le persone, ho torto collo, si sono dovute adattare a studiare online, a usare le piattaforme tipo Zoom o quelle che utilizziamo, WebEx o in generale. La musica è stata un po' la stessa cosa, anche il cinema, però la musica tendenzialmente ha avuto un ulteriore salto. Questo non significa, tra l'altro, che sia la fine anche dei negozi fisici, gli stessi negozi fisici si stanno trasformando, se pensiamo anche al vinile, il vinile è in America, la notizia proprio di pochi giorni fa, il vinile ha scavalcato il CD, siamo tornati al 1987 come vendite di vinile. Ecco, il vinile è protagonista non solo dell'e-commerce, perché chiaramente l'e-commerce è anche un fenomeno dominante, ma anche l'e-commerce di vicinato, paradossalmente, proprio durante il lockdown, anche in Italia. Io ho visto diversi negozi di vinile, piccoli negozi di vinile, adattarsi con consegna online, soprattutto su prodotti sofisticati. Chiaramente parliamo sempre di fenomeni di nicchia, però nicchie che hanno anche un valore, perché comunque alla fine il mercato dello streaming paradossalmente sta trascinando il vinile. Questo anche sui ragazzi molto giovani, la generazione Z. Alla fine cosa succede? Che tu comunque in questo mondo dematerializzato, dello streaming, delle playlist, poi alla fine hai bisogno anche di qualcosa di tattile, da toccare, del tuo artista preferito. E quello cos'è? Il vinile ha sostanzialmente questo bellissimo oggetto che ti porti in cameretta, poi non è detto magari che lo ascolti con la stessa assidità con cui ascolti i brani sullo streaming, però alla fine è interessante. E anche il fenomeno del Record Store Day, che è nato di recente in Inghilterra, è fortissimo, l'avrai visto. Ci sono code davanti ai negozi, anche nell'ultima edizione che è stata rinviata proprio adesso, perché si è svolta poche settimane fa. C'erano code davanti ai negozi indipendenti per comprare i vinili. Ho qua a Brighton, c'è il negozietto, quello nelle lanes, che lo vedo sempre pieno. Cioè in realtà è sempre pieno e vende, vende venile, vende cd, vende i gadget. Però diciamo, il valore aggiunto probabilmente nel negozio fisico è anche dettato da chi ci sta dentro. Se dentro c'è uno che ha veramente una conoscenza musicale, tu vai e ti fai una chiacchiera e ti dici oh ma hai ascoltato questo e quest'altro, quello è un po' diciamo il tuo suggeritore, no? E allora ti aiuta anche a evolvere i tuoi gusti musicali o a esplorare un altro tipo di musica. Sennò ascolti questa roba, no? E' l'algoritmo vivente, in quel caso è l'uomo che si sostituisce a quello che tu hai invece online, che è l'algoritmo che ti sottopone i tuoi prodotti sulla base delle tue ricerche oppure dei tuoi ascolti e invece lì hai questo contatto umano. Infatti secondo me quel tipo di collocazione ancora avrà un futuro, chiaramente legato sempre a delle dinamiche molto di nicchia, però comunque rimarrà, certo, il largo consumo soffre di più anche se anche lì ci sono delle dinamiche interessanti. Oggi gli in-store, per esempio, sono dei fenomeni dove tu vai con l'artista, sei collegato all'artista, quindi hai la possibilità adesso purtroppo in questa fase pandemica è più complesso organizzarli, però sicuramente è anche questa evoluzione. Certo, la gran parte del mondo oramai viaggia sul digitale, viaggia sull'online, viaggia sullo streaming, chiaramente. Un tema Enzo sono i guadagni, ci aspetta ti recupero Sabri Momu a petto nudo da Facebook nella sua foto. Per un artista musicale il suo guadagno oggi non deriva più dalla musica ma da tutto ciò che sta intorno a un artista. Siete d'accordo? C'è sempre questa discussione del oggi un artista dove guadagna e quando parlo appunto con un sacco di gente, amici insomma che sono in questo mondo, mi rendo conto di come si è cambiato e di come magari il fatto che ci sia un enorme business per lo Spotify di turno non necessariamente sia un grande business per il singolo artista. Cioè la piattaforma guadagni, ma non è detto che l'artista guadagni e poi insomma dipende chiaramente chi sei. Qual è la situazione ad oggi dei ricavi per un artista? Ma in realtà dipende molto anche dallo streaming e non è detto che assolutamente questo è un po' un falso una falsa rappresentazione che dallo streaming non si guadagna in realtà ci sono artisti che dallo streaming guadagnano tantissimo chiaramente lo streaming è un fenomeno di massa è un fenomeno legato anche molto ai consumatori più giovani quindi è chiaro che determinati generi musicali hanno sofferto io ascolto molta musica classica ad esempio è chiaro che la musica classica sullo streaming ha delle dinamiche diverse da quella che può avere il rap o che può avere il K-pop coreano in termini di volumi, di streaming, di quanto i consumatori fanno c'è un consumo compulsivo da moltissimi delle generazioni più giovani dall'altra parte è chiaro che gli artisti oggi molti sono diventati intanto imprenditori molti sono imprenditori di se stessi quindi sono in grado di muoversi anche proprio grazie magari al lavoro che fanno le label pensa che noi una volta chiamavamo le case discografiche record companies adesso noi le chiamiamo music entertainment companies proprio perché sono qualcosa di diverso cioè circondano l'artista infatti è vero l'artista può guadagnare dal merchandising può guadagnare dalle apparizioni televisive una volta l'artista andava in televisione per farsi promozione adesso viene pagato per andare in televisione sono cambiate le dinamiche i ricavi dei diritti connessi sono diventati sempre più importanti sono il 30% pensate i ricavi che arrivano dall'utilizzo di musica in radio nelle televisioni, negli aeroporti, nelle palestre, nei bar, nei ristoranti quindi abbiamo un lavoro che avviene diciamo così a 360 gradi quindi poi l'artista ha diverse ricavi sempre tenendo conto che fino ad oggi chiaramente fino alla pandemia la maggior parte dei ricavi provenivano attività live per molti artisti chiaro che questa situazione cambia moltissimi parametri e quindi rende necessario anche inventarsi, reinventarsi in molte situazioni non si può pensare chiaramente di fare business facendo lo streaming online dalla propria cameretta però si possono costruire dei meccanismi e delle attività online che generano anche dei ricavi grazie a monetizzazione e soprattutto alle brand partnership che per certi artisti stanno diventando una parte consistente anche del ricavo tu sai meglio di me che un artista che riesce a parlare alla sua fan base alla sua community è fondamentale poi per un brand per andare a raggiungere quel tipo di community e quel numero di fan parliamo in certi casi di miliardi di fan di milioni di fan a livello globale assolutamente c'è una domanda curiosa di Giuseppe D'Ambrosio che dice ciao pensieri su Taylor Swift non so se Giuseppe è intenzionato ai nostri pensieri dal punto di vista della bellezza di Taylor Swift o la sua artisticità o i suoi rapporti ad esempio con Spotify e via dicendo però insomma è un esempio di un artista che cerca di mettere i puntini sulle i per dire ok io vado in questa direzione e non seguo necessariamente quello che magari fanno tutti gli altri ecco non so se c'è un'opinione in merito ma io penso che ci sia una cosa molto importante soprattutto per gli artisti molto giovani quelli che oggi entrano in questo mercato scusa se ti interroppo ma l'hai visto il documentario di Taylor Swift americana mi sembra si chiama sì 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 certo ma la cosa la cosa la cosa importante oggi per un artista è conoscere molto bene i suoi diritti conoscere molto bene il mondo nel quale lavora e conoscere esattamente quelle che sono le caratteristiche di questo mondo e anche come avvengono i ricavi e quali sono gli elementi determinanti per potersi garantire ovviamente dei ricavi sufficienti a mantenere anche il controllo sulle proprie opere questo è qualcosa che per molti anni non si è fatto le case discografiche e gli artisti avevano un rapporto contrattuale ma molto spesso gli artisti non conoscevano bene perché si occupavano prevalentemente dell'aspetto promozionale erano poco interessati a questi aspetti che venivano considerati molto legali oggi è importante ma lo è importante proprio anche dal punto di vista della casa discografica la casa discografica vuole avere dei rapporti con artisti che sono consapevoli del legame che vanno a creare con la propria etichetta quindi si può anche perché questo aiuta poi a costruire insieme delle strategie comuni se invece l'artista pensa che la casa discografica la stia fregando piuttosto che la casa discografica pensa che l'artista non abbia interesse a sviluppare determinate linee strategiche per il business è il rapporto più difficile invece vediamo proprio che le nuovissime generazioni di artisti sono molto più consapevoli e chiaramente sono da quel punto di vista in grado di sviluppare progetti, iniziative che vanno oltre quelle che sono tradizionalmente il lavoro sulla pura registrazione musicale prima Enzo quando ho iniziato con la mia battutaccia che potrei fare il cantante tu non hai avuto una grande reazione devo dire questo mi mette grandi perplessità sulla mia carriera musicale futura ma dicevi che in realtà oggi chiunque può lanciarsi a parte scherzi se domattina io piglio una botta in testa impazzisco e voglio fare il rapper potrei farlo ho una community e mi segue e senz'altro qualche disco lo vendo poi non ne vendo più poi chiudo perché una volta che tu hai sentito il disco chiudo però è chiaro che se hai una community prima e hai un buon seguito è ovvio che puoi vendere o lanciarti quindi non avrei bisogno di una casa discografica qual è il ruolo allora oggi delle case discografiche cioè com'è che si sono evolute modificate in questo contesto sì infatti questa è una domanda interessante perché appunto dal punto di vista tecnologico lo sai meglio di me le barriere all'ingresso si sono sostanzialmente sono state eliminate cioè chiunque nella propria cameretta con degli strumenti abbastanza sofisticati e il web sostanzialmente è in grado di produrre qualcosa e di metterlo a disposizione di tutti attraverso i canali può anche caricarlo sulle piattaforme non ha che ha grandi problemi dal punto di vista tecnologico questa addirittura i feature possono essere fatti a livello internazionale noi ti faccio un esempio una piccola parentesi abbiamo fatto questo brano musicale per accogliere fondi per la Croce Rossa durante la pandemia che è stata diciamo il brano di cielo sempre blu di Rino Gaetano fatto da oltre 40 artisti e siccome era tutto chiuso e gli artisti hanno lavorato dalle loro abitazioni hanno realizzato sia i singoli pezzi all'interno della canzone sia addirittura i videoclip che poi sono stati montati e messi a disposizione tutti hanno lavorato praticamente da casa loro i discografici quelli che facciano la promozione la produzione tutto è stato fatto in questo contesto chiaramente poi a un certo punto certi aspetti sono più sofisticati bisogna di una piccola sala di registrazione con strumenti sofisticati però sicuramente questi aspetti sono tecnologici sono facili da superare quello che non è facile superare è il grande mare magnum della rete perché questo è il grande tema su cui invece entrano in gioco poi le case discografiche e la loro esperienza perché è chiaro che tutti sono in grado di prendere tutti i ricordi una volta c'era MySpace quando parlavamo un po' del medioevo digitale MySpace a un certo punto doveva diventare questo grande enorme contenitore editoriale multimediale nel quale ognuno di noi avrebbe potenzialmente messo tutto lì e sarebbe diventato un artista di successo perché miliardi di persone e milioni di persone nel mondo l'avrebbero potuto seguire e a quel punto effettivamente come dicevi tu gli intermediari sarebbero scomparsi in realtà alla fine è successo l'opposto cioè addirittura oggi vengono caricati se tu pensi che ogni giorno vengono caricate 40.000 brani su una piattaforma come Spotify puoi immaginare che fine fa Marco Montemagno quando carica il suo brano su Spotify come fai a farlo tu? chiaramente puoi usare e questa è una cosa interessante potresti usare i tuoi canali visto che sei una persona famosa hai queste possibilità però abbiamo visto abbiamo visto per esempio anche cos'è accaduto con artisti anche abbastanza noti quando hanno cercato di adattare le loro capacità e un po' anche il loro stile su piattaforme diverse io ho visto degli episodi abbastanza ridicoli con delle community che ridevano di artisti che hanno cercato di passare da Instagram a TikTok semplicemente perché a un certo punto hanno detto adesso questa è una nuova piattaforma ragazzi mi butto lì e faccio un successo e c'erano gli stessi fan degli artisti che sghignazzavano perché era una cosa un po' improbabile cioè devi essere un po' anche diciamo tra virgolette native di certi strumenti perché se no poi alla fine se non sei in grado di usarli o se li usi male alla fine quello che accade è che diventa contoproducente in questo contesto entrano in gioco proprio le case discografiche e soprattutto il mondo che si occupa di questa attività sui social che non è più una promozione cioè noi non dobbiamo guardare a questo mercato a questa struttura diciamo delle piattaforme social come se fossero delle televisioni o delle radio questi sono piattaforme di distribuzione sono delle vere e proprie piattaforme di distribuzione che fanno parte di una strategia coordinata cioè David Guetta che lancia il suo nuovo singolo su TikTok lo lancia con una determinata strategia che è diversa da quella che può essere applicata a lanciare un brano su Spotify piuttosto che su YouTube piuttosto che su Instagram quali quali sono i progetti che vengono realizzati e pianificati dietro hanno anche una struttura di base di dati che è complicatissima tu immagina che all'interno di una casa escografica arrivano 12-15 terabyte di dati ogni mese dalle piattaforme social che devono essere analizzati e digeriti ci sono a livello internazionale chiaramente strutture dedicate a tradurre i dati che arrivano delle piattaforme per i vari team della casa discografica cioè io ricevo delle informazioni che così come sono non sono in grado di gestire ma io le posso tradurre per il ragazzo che fa ANR cioè che fa ricerca e sviluppo per quell'altro team che si occupa del marketing e per quell'altro team che si occupa dell'attività commerciale a ognuno di loro do delle informazioni che diventano fondamentali per costruire la strategia intorno all'artista questo è il lavoro che oggi fa un'etichetta discografica è un lavoro molto complicato tra l'altro però fatto con una professionalità e una caratteristica che consente poi alla fine di dare all'artista una serie di strumenti per capire conoscere e muoversi anche all'interno di questo di quest'area che è molto complessa quella dell'online in generale pensa Enzo che parlavo con Max Pezzali qualche giorno fa peraltro divertentissimo insomma un sacco di aneddoti e in effetti lui quando è partito l'ha scoperto Claudio Cecchetto ha detto ok tu sei in gamba e quindi ti mando il radio e in un qualche modo creo quell'artista avevo la potenza se ero la radio se ero l'editore di creare quel tipo di artista oggi invece il rapporto parte dopo cioè io mi creo il mio seguito online esplodo online a quel punto la case escografica ha le competenze per aiutarmi diciamo a scalare organizzare la mia crescita professionale poi negli anni se sono bravi chiaramente poi ci sono quelli più bravi meno bravi però è un ruolo proprio proprio diverso ma Enzo invece YouTube sai che ho intervistato non mi ricordo io con i nomi sono pessimo arca miseria Nelson Nelson dei rovere lui ha questo proprio ruolo che è sia YouTuber con gli Space Valley sia cantante e la cosa curiosa è che durante l'intervista io ad un certo punto ero qua così e gli ho detto e lui ha parlato ha detto sono uscito con sto video e ho detto guarda lo faccio vedere un attimo ma tolgo la musica così non voglio avere problemi di diritti sai che ugualmente l'algoritmo sia di Facebook che YouTube mi ha immediatamente bloccato il video clamoroso cioè ho fatto vedere ma tipo 10 secondi mentre noi stavamo parlando ho condiviso lo schermo senza musica e sono subito stato stato bloccato perché ho detto caspita cioè notevole il livello di riconoscimento oggi sui diritti che c'è qual è la relazione con le piattaforme YouTube allora intanto diciamo che YouTube è in assoluto la prima piattaforma per consumo di musica a livello globale questo è e proprio non c'è nessun dubbio YouTube ancora oggi è diciamo lo strumento con il quale la maggior parte delle persone entra in contatto con la musica detto questo chiaramente ci sono delle tematiche che hanno riguardato la remunerazione dei diritti YouTube mentre fa miliardi di visualizzazioni e ha un seguito enorme genera molto meno rispetto a quello che generano piattaforme come Spotify come Apple come Amazon Music e quant'altro e da lì è nato anche tutto il tema di cui sai si è dibattuto tantissimo questa direttiva europea che ha modificato un po' la struttura proprio giuridica di questo tipo di piattaforme quindi si dovrebbe risolvere un po' questo tema detto questo chiaramente YouTube oggi è in competizione con anche piattaforme emergenti parlavamo di TikTok chiaramente i shot video stanno diventando uno degli elementi fondamentali nella comunicazione e nella promozione e questo chiaramente cambierà anche la struttura la stessa si legge anche che YouTube vorrebbe entrare in quel segmento dall'altra parte anche sono partite altre piattaforme per i shot video certo YouTube rimane centrale e diciamo molto più utilizzato da quello che vediamo dai nostri dati come piattaforma per ascoltare musica più che scoprire nuovi artisti questa è invece una piattaforma di discovery per eccellenza e sicuramente Spotify rimane la piattaforma per eccellenza nella discovery di artisti in generale lo streaming audio è più importante però chiaramente sono come dicevo all'inizio sono anche piattaforme diverse dove si costruiscono anche carriere diverse perché giustamente i consumatori sono consumatori spesso anche segmentati con le loro piattaforme di riferimento e i loro generi musicali di riferimento quindi non è sempre detto che tutte le piattaforme vadano bene per tutti gli artisti e anzi alcuni come dicevamo prima potrebbero risultare ridicoli a fare una cosa su una su una piattaforma un po' strana Enzo aiutaci a capire i rapporti piattaforme e pagamento dei diritti ad esempio YouTube io penso molta gente non sappia come funziona se vado su YouTube e YouTube mi fa ascoltare della musica oppure c'è della musica che sta all'interno di un video qual è il rapporto YouTube autore artista o casa discografica per il pagamento dei diritti come funziona beh lì c'è tutto un tema di cosiddetta monetizzazione per cui chiaramente le case discografiche gli autori gli artisti a seconda del rapporto che hanno con la loro produzione possono scegliere vari meccanismi di monetizzazione che sono quelli previsti dalla piattaforma come YouTube faccio l'esempio quando prima hai citato il tema del blocco del contenuto che hai evidenziato lì c'è una precisa scelta come sai YouTube e anche Facebook utilizzano dei sistemi di content ID nel caso di YouTube questo content ID consente al titolare i diritti di fare delle scelte cioè scelte di monetizzare tutto il video monetizzare solo la track monetizzare non monetizzare cancellare non consentire al brano di essere caricato ci sono tutta una serie di elementi che poi alla fine consentono alla casa discografica e alla piattaforma di negoziare poi dei ricavi quindi in generale non c'è come possiamo dire un prezzo stabilito a priori ci sono dei meccanismi di anche di pensiamo poi YouTube è una piattaforma ad support quindi contiene anche della pubblicità questa pubblicità ha diversi diverse modalità di essere consumata da noi che guardiamo il video e quindi su quella base poi vengono costruite delle monetizzazioni e quindi poi dei ricavi per le etichette discografica e in generale per gli aventi diritto però il sistema del content idea è sicuramente un sistema che ha fatto fare un salto importante anche perché poi pensa che le case discografica prevalentemente monetizzano oggi cioè è sempre più raro che un contenuto venga bloccato o non venga diciamo monetizzato perché in generale come dicevo prima facevo un esempio ci sono certi video dove la versione user generated ha generato più visualizzazioni del videoclip ufficiale e quindi ha consentito di monetizzare tale è stato il successo virale di questa di questa canzone che è stata poi utilizzata da tantissime persone ma se io vado su TikTok e vedo tutta la musica che hanno c'è un accordo immagino TikTok mondo con le principali case discografiche per usare i 10 secondi del brano i 20 secondi del brano e pagano i diritti pagano delle royalties forfettarie come funziona un accordo del genere su TikTok la situazione è ancora in divenire nel senso che non ci sono accordi con tutte le case discografiche per cui sicuramente vedi alcuni contenuti altri contenuti non li vedi perché vengono rimossi la situazione è chiaramente in evoluzione TikTok sta negoziando con le principali case discografiche con alcune raggiunto degli accordi con altre solo per una parte di repertorio e quindi la situazione in divenire come puoi immaginare data anche la situazione complessa che ha TikTok a livello globale soprattutto con quello che sta accadendo negli Stati Uniti e questo meccanismo prenderà del tempo però intanto le etichette come sai hanno appunto partendo dalle grandi piattaforme passando per Instagram arrivando anche a questo tipo di piattaforma hanno l'obiettivo di creare delle partnership con tutte queste piattaforme per noi è molto interessante quello che viene sviluppato perché come puoi immaginare è un'ulteriore fonte di ricavo e dall'altra parte è anche uno strumento di competizione più piattaforme ci sono meglio è primo perché si fanno competizione tra di loro e questo porta chiaramente dei benefici anche a chi produce il contenuto perché non dipende più da una sola piattaforma tu ti ricordi tanti anni fa per i videoclip c'era solo MTV MTV era un vero e proprio gatekeeper nel senso che sceglievano loro c'era la famosa eh questo non è non va bene con la nostra linea editoriale quel video non andava in onda oggi le cose sono diverse alcune piattaforme sono più potenti come puoi immaginare perché hanno una maggiore penetrazione sul mercato però tante altre eh hanno raggiunto dei livelli di competizione con sul mercato che consentono anche agli eventi di ritto in questo caso le case discografiche gli artisti di fare delle scelte per noi è molto importante ogni modello di business che nasce nel settore musicale è interessante da valutare per capire proprio quali opportunità offre pensiamo adesso al live streaming no? quello che abbiamo visto anche di recente il live streaming è un ulteriore strumento che è sia importante probabilmente per gli artisti dal punto di vista di un po' del live che chiaramente non sarà mai sostitutivo del concerto dal vivo però è un modello che si può aggiungere a quelli esistenti il mondo del videogame porta il mondo del videogame il mondo del videogame porta abbiamo visto l'operazione di Travis Scott con Fortnite ecco quello è un esempio di come questa congiuntura tra un certo tipo di artisti musica e piattaforme di gaming ha consentito di creare una anche lì un'operazione dal punto di vista economico molto significativa l'operazione di Travis Scott della Sony Music con Epic la società di Fortnite ha portato alla fine non solo a questo concerto con questa sorta di residency che è stata creata tu hai visto sono stati fatti sostanzialmente cinque concerti che si sono ripetuti in cinque giornate diverse in cui praticamente Travis Scott ha fatto questo showcase davanti a milioni di utilizzatori di Fortnite ma cosa è accaduto non solo l'artista è diventato si è fatto conoscere io ti faccio un esempio mio figlio non era un fan di Travis Scott però un giocatore di Fortnite ha conosciuto Travis Scott attraverso Fortnite e ha cominciato consumare la sua musica su Spotify questo è quello che è accaduto ma non solo durante i concerti Travis Scott ha venduto il merchandising e sai cos'era il merchandising erano delle skin le skin che sono state vendute per i giocatori di Fortnite costavano 25 dollari l'una cioè come vendere una maglietta allo stadio e questo è invece ciò che è avvenuto sui videogiocchi questa è un'area dove tu hai certo hai una grossissima dicevo un margine totalmente diverso rispetto alla maglietta fisica chiaro e lo stesso con i concerti live fatti in determinate condizioni chiaramente l'evento global dei BTS è stato un evento con anche lì una bigliettazione a livello globale e che è stato sicuramente un evento imponente che ha generato qualche milione di dollari non è replicabile a livello di tutti gli artisti come puoi immaginare perché anche richiedono anche delle produzioni sofisticate come puoi pensare non è che più fare solo il collegamento alla cameretta suonando sulla chitarra acustica è tutto un altro però questo è e appunto le case discografiche sul settore dei videogame stanno sviluppando delle aree dedicate proprio per questo tipo di attività che non è più solo presentare la soundtrack in un videogioco ma è fare proprio della vera e propria promozione delle joint venture in FIFA 2021 ci saranno delle canzoni che saranno addirittura delle esclusive all'interno di questo di questo prodotto è curioso ne parlavo con Nina Zilli l'altro giorno e Danti è curioso il fatto che oggi tu hai degli artisti prendiamo Vasco che se fanno San Siro fa 6 San Siro di filo non so quanti ne abbia fatti Vasco se però esce magari con un pezzo lui e nello stesso momento esce un rapper giovane che tira in quel momento su Spotify il rapper giovane magari va in cima alla classifica e Vasco non è lì e quindi c'è questa questi mondi paralleli anche dove hai delle community che magari sono molto forti un artista cioè in teoria Vasco dovrebbe essere primo dappertutto cioè se più di 6 San Siro non lo fa nessuno in realtà non è così se va su TikTok magari non lo so Cecilia Cantarano esce col pezzo o fa più numeri di Vasco e allora è interessante questo questo moltiplicarsi ecco di posti di distribuzioni che hanno anche protagonisti diversi a seconda dei posti non c'è più l'unico vincitore no? Beh questa è una questione anagrafica principalmente in questo momento e sta cambiando perché guarda l'abbiamo detto all'inizio con il lockdown c'è stato un un importante cambiamento anche generazionale molti consumatori della nostra età diciamo o anche un po' più giovani però che consumavano tendenzialmente prodotto fisico sono transitati sulle piattaforme quindi hanno sostanzialmente un po' cambiato anche questo questa forte connotazione giovanile no? Cioè il giovanile intendo dire proprio teenager perché alla fine piattaforme come Spotify e in generale lo streaming è stato guidato dalla generazione Z dagli smartphone quindi è un tipicamente un prodotto molto giovane e quindi qual è la conseguenza che anche in Italia che è esplosio l'hip hop se tu guardi le nostre classifiche settimanali 9 su 10 vengono da quel mondo questo è perché oggi questi sono i consumatori prevalenti di questo mondo ciò non vuol dire che lo spostamento di consumatori più adulti cambierà questi parametri noi ci aspettiamo è una normale evoluzione cioè è una crescita di questo di questo mondo che poi perché i consumatori di musica comunque ci sono cioè quelli che ascoltano Vasco ci sono quindi anche quelli stanno transitando su queste piattaforme e alcune di queste piattaforme che sono più adult chiaramente hanno una caratteristica un po' diversa quindi si sta un po' diciamo modificando anche se chiaramente questa cosa rimane quelli che i cosiddetti grandi artisti che fanno grandi serate live hanno un mondo del live chiaramente rimangono legati molto oggi a quel mondo e meno a quello delle piattaforme digitali sono curioso Enzo di vedere quale sarà l'evoluzione di altre piattaforme che non sono necessariamente musicali ma che hanno grandi numeri avevo visto il caso di Calm che aveva fatto quell'iniziativa con Moby e l'idea di base imprenditoriale è ma io ho magari 100 milioni di utenti o 10 milioni o a seconda della nicchia possono anche essere 100 mila ma impallinati magari di un argomento e a questo punto vado a fare un'esclusiva con un artista che esce prima con il suo pezzo sulla mia piattaforma io gli do una distribuzione quindi creo un contenuto in sostanza e i miei utenti sono contenti perché hanno un contenuto esclusivo l'artista ha money e visibilità e poi esce sulle sue altre piattaforme allora questo è interessante perché ci sono una marea di piattaforme che hanno grossi numeri oggi e quindi magari dico una cazzata su Slack uno fa un'esclusiva con Taylor Swift e dice oh noi abbiamo 300 milioni di utenti why not magari può funzionare su Slack ci sono già state delle esclusive beh pensiamo anche Twitch Twitch è l'esplosione che sta avendo Twitch per cui puoi avere tante piattaforme che vanno al di là io te lo dicevo questo esempio perché ragionavo sul mio 4books che siamo ancora piccolini ovviamente ma nel momento in cui raggiungessimo 100 mila abbonati potremmo proporre dei contenuti in esclusiva sicuramente questa è un'opzione che viene utilizzata da tantissimi artisti anche perché abbiamo per noi anche perché abbiamo queste piattaforme sostanzialmente come dicevo all'inizio in realtà se noi le guardiamo dal punto di vista distributivo tu immagina che le piattaforme siano come dei negozi oggi nel mondo fisico cosa accadeva che c'erano delle esclusive non so uno showcase dell'artista fatto in un negozio della Reebok oppure c'era un'esclusiva fatta in un'altra in un'altra connotazione particolare legata a un brand ecco sostanzialmente quelle cos'erano erano delle attività di promozione legate poi a delle perché in quei luoghi per esempio si vendeva anche il prodotto associato alla presenza artista poi tu avevi il prodotto firmato l'esclusiva quelle cose lì nel mondo online avviene un po' la stessa cosa in realtà le piattaforme possono diventare dei veicoli importanti per fare delle iniziative esclusive su quella community tenendo conto quali sono appunto le community che si legano a determinati prodotti l'esempio che abbiamo fatto di Fortnite è stato abbastanza eclatante quello di Twitch è un altro canale che le case discografiche e gli artisti stanno sempre di più scoprendo al netto perché anche lì ci sono ancora da risolvere dei problemi di diritti però è evidente che abbiamo delle possibilità sostanzialmente enormi guardiamolo poi anche dal punto di vista globale perché uno dei grandi temi è l'esportazione della musica cioè oggi potenzialmente tu hai una vetrina globale non hai dei limiti e quello delle piattaforme e di questi canali può diventare uno strumento molto importante per determinati artisti che poi fanno appunto delle collaborazioni anche internazionali che diventano sempre più semplici soprattutto in questo mondo di artisti dell'hip hop i featuring tra artisti diversi di paesi diversi che però si trovano molto più legati perché sono un legame di genere più che un legame di livello una volta era difficile che un grande artista americano facesse un featuring con Vasco Rossi o con altri artisti perché c'era una distanza anche proprio culturale tra questi mondi il mondo del rock anglosasso il mondo del rock europeo o italiano dal punto di vista anche della lingua così del tipo anche di fan oggi un rapper americano tranquillamente fa una cooperazione con un rapper italiano o un artista di reggaeton fa una collaborazione con un artista italiano che poi diventa famoso magari nel Sud America piuttosto che negli Stati Uniti o in Messico quindi più semplice questo Enzo per chiudere e peraltro stavo pensando mentre parlavi che un altro canale ovviamente interessante è tutto il mondo dei nuovi media per cui è tutta una marea di influencer che di fatto sono media che magari non si occupano di musica ma hanno 2 milioni 5 milioni 10 milioni di follower e se io sono un artista quello è un media che vale quanto Repubblica il Corriere Guardian o Sky insomma e quindi posso mettere insieme magari gli influencer che sono più accessibili penso su TikTok prendi 10 ttoker italiani che ci hanno un buon seguito e se tu esci con un pezzo e ti rimbalzano e ti amplificano tu a quel punto fai dei bei numeri insomma sullo 0 a 0 così infatti è quello che sta un po' avvenendo nel senso che molto spesso tu trovi la scelta di utilizzare determinate canzoni se vai a vedere la top 10 settimanale di TikTok è legata proprio a questo tipo di utilizzazioni cioè dei grandi tiktoker che utilizzano magari come brano musicale un brano emergente o un brano che sta andando per la maggiore per fare le challenge e questo brano poi chiaramente schizza in alto non solo su TikTok ma chiaramente poi su tutte le piattaforme di streaming tradizionali chiamiamola tra virgolette senti Enzo quali sono per chiudere secondo te alcuni alcuni trend che vedi e dici tra un anno ci ritroviamo qui e secondo te si va in questa direzione a parte la digitalizzazione compulsiva ossessiva sempre sempre maggiore lo streaming ci sono dei trend che tu vedi come che si stanno verificando e sul quale suggerisci di tenere un occhio ma allora personalmente vedo fortissimo questa pressione sui shot video appunto TikTok Thriller e tutto quello che ruota intorno perché c'è molto movimento legato alla generazione Z a quel a quel mondo che traina un po' questo tipo di consumi e quindi ci sarà un'evoluzione sicuramente anche dal punto di vista artistico e creativo per sviluppare prodotti da adattare a questo tipo di segmento e poi chiaramente il mondo l'abbiamo citato prima secondo me il mondo dei gamer è ancora un mondo sottutilizzato perché ha delle prospettive enormi che si sono viste proprio in questo momento e poi chiaramente un consolidamento sull'area anche audiovisiva cioè il rapporto non abbiamo parlato però le soundtrack delle serie tv sono altrettanto importanti per far conoscere soprattutto a livello globale dei brani musicali non solo di unità ma anche di catalogo e su quello ci sono chiaramente delle strategie da parte delle delle etichette però è un'altra area che ha delle opportunità enormi visto anche appunto l'effetto globale che hanno queste serie che poi vanno in tutto il pianeta questo assolutamente peraltro ieri sera stavo guardando una serie che non avevo mai visto criminal si chiama è tutta in una stanza di interrogatorio e c'è tutte le tecniche di interrogazione forte molto interessante e la prima cosa che ho notato era la musica sempre un po' angosciante diciamo mamma mia questa musica però effettivamente il mondo magari vede che ne so Ozark o una serie così e tu in tempo reale una piattaforma ecco che va in tutto il mondo e diventa super importante quello è un classico che mai vedi spessissimo che c'è io lo vedo anche a casa mia e ragazzi c'è una serie che gli piace particolarmente stanno guardando poi butto l'occhio e sto vedendo che sta facendo con Shazam sta cercando di capire qual è il brano musicale che sta suonando sotto e da lì poi si collega immediatamente a Spotify e dà un'occhiata all'album da cui è stata tratta per capire se l'artista gli interessa o non gli interessa che tipo di produzione fa vedi questo è anche il fatto che magari una serie sdogana un genere ad esempio ho visto c'era mio figlio più grande che mi diceva ma ascolto un po' di drill che cazzo è la drill e poi stavo guardando Misfits che è una serie inglese di sbarbati che hanno i superpoteri insomma una roba un po' inguardabile però interessante e lì poi c'hai dei brani drill inglesi allora quelli diventano subito mainstream perché la gente inizia a accettare quel tipo di sonorità è interessante è una grande contaminazione non mi hai segnalato il Montemagno io speravo che quello fosse il tuo trend dominante su cui scommettevi ma niente il Montemagno non ci punti e quindi il mio futuro musicale non c'è Enzo dalle tue reazioni me l'hanno fatto chiaramente capire basta va bene ok ci puntavo invece veramente dicessi Monti guarda in realtà puntaci perché insomma manca il tuo genere della musica adesso puoi fare una bella challenge su TikTok scegliendo qualcosa di incredibile e poi da lì ti lanci nel mondo suoni di palline da ping pong potrei fare una roba del genere io ecco insomma questo è il massimo che potrei esprimere molto bene Enzo ti ringrazio molto per la chiacchierata molto utile e ci teniamo in contatto senza altro il mondo della musica è uno dei mondi da tenere d'occhio per capire quale sarà l'evoluzione digitale Enzo ci teniamo in contatto buca lupo ciao ciao grazie ciao a tutti